Ciao, benvenuti e bentornati sul canale! Oggi ti mostro quello che ho preso da Dicotà e anche la Iper. Sono tornata da Dicotà con l'intento di prendere alcuni detersivi per il bucato, però non ho trovato grandissime offerte su ciò che mi interessava e sono andata in un altro casalinghi che si chiama Ipercasa e dopo ti farò vedere due cosine che ho preso e quindi mi sono concentrata su altro. Il volantino è questo ed è quello appunto di marzo che dice Eciu ti salvo io e sono disegnati dei fazzolettini. Ho trovato molto interessanti le scontistiche, i coupon che si possono applicare a determinate categorie di prodotti, quindi il 30% su un prodotto di make-up, il 30% su un prodotto per la cura della persona o sulla cura della casa, insomma, varie scontistiche che possono essere riferite in cassa senza ritagliare appunto i coupon, scontistiche che comunque risultano sempre molto comode, soprattutto se si è alla ricerca di un prodotto in particolare. Innanzitutto ho riacquistato queste vaschette in alluminio, queste sono da 5 porzioni e sono 3 pezzi, mi torneranno utili per fare la lasagna perché ne sono sempre sprovvista. Ho pensato che con questo formato posso cuocere in contemporanea due vaschette e provvedere appunto a tutte le porzioni di cui ho necessità. Quella da 12 era troppo grande e quella da 8 mi sembrava piccina e quindi ho deciso appunto di prendere queste. Poi ho riacquistato questo formato da 2 litri di acce gentile approfittando del 30% di sconto comunicato alla cassa appunto e quindi l'ho ricomprata anche perché ne ero rimasta proprio senza. Ho poi approfittato dell'offerta sul finish ed ho acquistato questo mega pacco da 3 flaconi di finish all-in-one max power gel, 3 poteri sgrassanti, quindi 3 volte più sgrassante. Io con questo onestamente mi trovo bene. La versione in pastiglie del finish all-in-one non mi piace, invece con il liquido mi trovo bene e quindi l'ho ripreso. Per impingare un po' le scorte di ammorbidente, in particolare del mio dorato fabuloso perché era in offerta, ho preso questa versione qui alla magnolia. Unica su Persite tra l'altro, mi pare che fossero in sconto due fragranze, ma questa e non so se quella al cocco o un'altra profumazione, comunque era rimasta solo questa e quindi comunque ne ho approfittato, mi pare a 99 centesimi. Poi ho riacquistato il Napisan, spray igienizzante bagno, versione limone e menta. Questo era da un po' di tempo che non l'acquistavo e onestamente mi trovo molto bene in quanto va a lucidare molto bene sia la rubinetteria che proprio i sanitari. Igenizza e quindi è molto pratico tra l'altro con l'erogatore così spray. Veramente è un prodotto che mi piace tanto e quindi ho deciso di riprenderlo. Ultimo prodotto per la casa, cookie spago da cucina per legare carni e verdure, confezione dispenser, 100% fibra naturale. Lo spago da cucina torna sempre utile e anche se si usa poco, almeno parlo per me, lo uso poco, nel momento in cui serve non c'è mai. Quindi è bene averlo. Poi passiamo al reparto cura personale, eccetera. Ho riacquistato perché trovate in offerta i miei adorati Laurella. Avevo acquistato Ilicia in offerta, se non ricordo male, la volta scorsa. Li trovo però un pochino più corti rispetto a questi, sia alla versione da giorno che alla versione da notte e quindi ho ripreso loro anche perché appunto erano in offerta e quindi ne ho fatto una bella scorta sia della versione giorno che della versione notte. ne ho presi vari pacchi. Eccoli qua. Ed ecco l'ultimo, quindi tre da giorno, due da notte, ma li tengo sempre in scorta. Poi di Mentadent, questo mega pacco che contiene quattro confezioni di dentifricio, è la versione freschezza quotidiana fluoro e menta. Questo soprattutto lo utilizza mio marito e a lui questi piacciono un po' a tutti. Sono da 75 ml, molto molto conveniente, sotto i 3 euro, se non ricordo male. Comunque ti riporto tutti i prezzi giù in infobox e quindi l'ho accaparrato. Poi trovate in offerta a poco più di 3 euro, 3 euro e 10, Helmex, la versione sensitive, la classica diciamo, e l'ho presa al volo. Questa è sempre da 75 ml, questo è il mio preferito, ma lo vedi sempre. lo finisco, lo ricompro, gli rimango fedele. Poi ricamango fedele anche a Neutromed, quando lo trovo in offerta lo prendo sempre, questo è il solito detergente intimo con complesso micellare e tollerabilità, azione riquilibrante, va bene per tutta la famiglia, è molto delicato, molto fresco, ci troviamo veramente, veramente molto bene e quindi nelle mie scorte non manca mai. e poi tra l'altro si trova molto spesso in offerta. Poi altro detergente intimo, penso di aver fatto un buon affare, questo è di Dermandè Pure Care, detergente termoliquido lenitivo con calendula e aloe vera. Allora, questo dice ideale per intimo il corpo ed è proprio questo aspetto che mi ha incuriosita molto perché è un formato da mezzo litro, quindi è molto conveniente e quindi l'ho voluto prendere per provarlo perché è la prima volta che l'ho acquisto. Tra l'altro è adatto alle pelli sensibili, dedicato alla detersione quotidiana di tutta la famiglia e quindi insomma dovrebbe essere perfetto per tutti noi. Trovate in offerta di Assorbello mai provate queste salviettine per salviettine igieniche che noi utilizziamo principalmente per le mani sia noi sia i bambini insomma soprattutto i bambini e con aloe vitamina E e camomilla e sono 64 erano ad un ottimo prezzo e le ho volute prendere per provarle. Poi sempre salviettine le baby fresh sono tornata ad un grande amore qui c'è proprio il lato sentimentale che è venuto fuori perché queste sono le salviettine che io ho cominciato ad usare quando è nato Dario e le ho adorate da subito e mi ricordano proprio i momenti insomma dei miei piccini in fasce perché poi le ho utilizzate un po' per tutti quanti e quindi insomma le ho viste in questo piccolissimo formato e le ho volute riprendere ma proprio perché i profumi alcuni profumi ci rimandano a determinate sensazioni determinate emozioni e il profumo di queste salviette mi riporta ecco ai momenti di dolcezza quei momenti teneri coccolosi breve parentesi poi di Wilkinson Hydro Silk tre ricambi per questo per questo rasoio che utilizziamo sia io che mio marito e sono al burro di carité dice quindi hanno praticamente due spazi sopra e sotto le lame che sono arricchiti appunto di burro di carité e a contatto con l'acqua e con la pelle si vanno ad attivare e quindi rilasciano il prodotto e rendono più morbida la rasatura appunto anche senza l'ausilio di saponi io le utilizzo sempre con il sapone o con la mousse mi pare quella di Dove però ecco comunque rimangono molto piacevoli in ogni caso da utilizzare sono molto delicate e ci troviamo veramente molto bene poi di Yes All Natural Bio questo shampoo all'eucalipto al ginepero riequilibrante che in questa versione non ho mai provato avevo provato quella al bergamotto all'arancia illuminante e mi era piaciuta tantissimo questa l'ho pensata soprattutto per i ragazzi perché trovandosi in età adolescenziale hanno bisogno di un po' più di freschezza sulla cute e quindi essendo una formula molto delicata ho pensato potesse essere adatta a loro lo proveremo comunque anche io e mio marito tra l'altro io ho una cute grassa quindi il fatto che sia riequilibrante per me è insomma un aspetto positivo ho già in utilizzo un prodotto di questo genere per cui insomma sono contenta di poterlo provare poi rimanendo in tema capelli di Omia questa maschera l'aloe vera anticrespo che io ho provato diverso tempo fa mi era piaciuta e ho voluto riprenderla perché ho terminato la maschera che avevo in utilizzo finora quella di Garnier e quindi volevo cambiare un pochino e sono tornata a questo prodotto che comunque è un punto fermo diciamo mi era piaciuto per cui vedremo insomma se continuerà a piacermi come la prima volta che l'ho utilizzato è un barattolo da 250 ml ottimo prezzo e quindi ne ho approfittato poi di G.E.O.M.R. Talasso Scrub Illuminante questa è la versione allo zenzero e alla liquirizia l'avevo provata tempo fa e mi era piaciuta ma voglio rinfrescare la memoria ho terminato la versione rimodellante al caffè che rimane la mia preferita insieme a quella Largan però la versione Largan la preferisco in inverno perché contiene all'interno degli oli che sono molto molto nutrienti questa andando anche verso la bella stagione la utilizzerò ecco molto piacevolmente e vedremo questo effetto illuminante non lo ricordo molto bene onestamente non ho un ricordo così vivido e quindi lo riproverò molto molto piacevolmente era in offerta questa versione se non sbaglio quella proprio al caffè che però non c'era e quindi sono andata a colpo sicuro poi di Neutromed Dermodefense 5 azioni dermodifensive nella versione invisible antimacchie l'ho ripreso anche se non era in offerta perché mio marito ha terminato le scorte e quindi tanto per averne una di riserva gliel'ho ripresa ma questa la vedi e la rivedi perché appunto compro questo odorante in diverse varianti sempre insieme al Nivea ma questo credo ancora di più poi di Delidea maschera viso purificante sono due maschere da 10 ml ciascuna sono della linea riequilibrante alla mela e bambù di questa linea ho utilizzato anche il detergente viso che mi era molto piaciuto nella stagione calda che avevo trovato molto rinfrescante e molto piacevole da utilizzare anche se con una profumazione un pochino troppo intensa e con un'azione pulente spiccata diciamo e poi avevo provato anche l'esfoliante ma l'esfoliante non mi era piaciuto perché è troppo aggressivo e voglio provare appunto anche questa queste maschere non ricordo di averle provate prima anche se l'avessi fatto ecco non ne ho comunque ricordo quindi le riproverò volentieri poi di Ava questo latte detergente struccante e tonico 3 in 1 mi ha molto incuriosita io poi lo andrò a rimuovere comunque con la detersione però avevo voglia ecco di provarlo l'ho trovato a 3,90 euro a quel prezzo ho visto che c'era anche lo shower gel io qualche tempo fa mi sono confusa in un precedente video ti ho detto che avevo trovato la crema mani piccina a quel prezzo a 3,90 euro ma in realtà assolutamente no si trattava dello shower gel che però avendo lo stesso formato e le stesse sembianze della crema mani io ho confuso perché la crema mani costa una tombola infatti in versione grande da 100 ml costa sui 27-28 euro io avevo trovato la confezione da 100 ml più 40 ml a 19,90 euro e l'avevo presa al volo ma la versione mini ho capito che non c'è insomma ad aticotà almeno non che io non l'ho vista ho visto solamente la versione grande quindi a 3,90 euro troviamo solo il latte detergente e il doccia gel ultimo prodotto riguarda il make up ho riacquistato un correttore che desideravo riprendere da tanto tempo sto parlando dell'instant anti-age il cancella età di Maybelline Maybelline è uscita con tante altre colorazioni io tempo fa acquistai la versione light ma per me comunque è un po' scura e adesso ho acquistato la numero 115 warm light ho provato il colore su un talloncino di plastica fornitomi dalla commessa e mi sembrava che il colore si potesse adattare abbastanza però dovrò poi provarlo quindi speriamo bene direi che ti ho mostrato tutto quello che ho acquistato da Dicotà da lì per casa sono andata principalmente per l'offerta sul dash e ho preso sia la versione alla lavanda qua riporta 50 misurini quindi un mega formato da 2750 ml e poi la versione classica io non sono solita consumare il dash non per qualche motivo in particolare ma perché non lo trovo praticamente mai in offerta avevo provato il dashpot ma questo in versione liquida non l'avevo mai provato e quindi lo proverò volentieri la versione classica ha un bel profumo fresco proprio di bucato pulito molto classico e mi piace anche questa lavanda devo dire fresca una buona profumazione ma poi li proverò sui capi poi ho trovato un prodotto che da moltissimo tempo non trovo nei casalinghi e sto parlando di questo asciugatutto di arix che è un panno multiuso dice non lascialoni né pelucchi resistente e facile da strizzare ed è tale per tutte le superfici mi trovo benissimo sia in cucina che in bagno e quindi ne ho presi tre proprio per non rimanerne senza e poterli utilizzare per un certo periodo perché appunto non lo trovo con molta facilità poi dell'angelica mi ha incuriosito moltissimo questo shampoo fortificante lupolo e semi di miglio è adatto a tutti i tipi di capelli e quindi lo proverò molto volentieri ha una profumazione anche molto molto dolcina gradevole avevo visto da di quotà come prodotto novità il balsamo maschera e trattamento live-in 3 in 1 dell'angelica ma non l'avevo preso perché comunque avevo già acquistato la maschera di omia ma non è detto che io non lo provi in futuro e intanto proverò lo shampoo che comunque non ho mai acquistato finora di DAV lego fresh queste saponette con profumo di cetriolette verde a me le DAV piacciono sempre tantissimo e quindi le ho riacquistate poi passando mi sono ricordata che stavo terminando i dischetti in cotone quindi ho preso al volo anche di licia questi dischetti struccanti sono quanti sono 80 dischetti struccanti per viso ed occhi ma io lo utilizzerò principalmente sugli occhi e per rimuovere lo smalto ti ho fatto vedere tutto io spero che il video ti sia stato utile in qualche modo che ti sia piaciuto se così fosse lascia un pollice in su iscriviti al canale e attiva la campanella se non vuoi perderti nessuno dei miei prossimi contenuti io sarei felicissima di ritrovarti qui nel mio prossimo video ti mando un abbraccio un bacione ciao